La giornata di oggi la intitolerei Bersaglio mobile, nel senso che tutti a dare addosso al sindaco in un momento nel quale secondo me ci sarebbe bisogno di fare fronte comune perché il Comune di Napoli è un bene di tutti quanti, a prescindere dall'appartenenza politica. E questa amministrazione non ha aggravato la situazione del Comune di Napoli che è una situazione pregressa, è una situazione che viene da debiti che sono di amministrazioni, ripeto facevo l'esempio dei derivati prima, parliamo di un debito contratto nel 2005, non è possibile pensare che, ed è un debito che peraltro dal 2019 fino al 2035 porterà un saldo negativo di 177 milioni. Cioè parliamo di importi che non sono in nessun modo ascrivibili a questa amministrazione e che questa amministrazione ha soltanto la pecca, se così la vogliamo chiamare, ma non è la nostra pecca perché è la nostra forza di non voler far pesare una situazione di dissesso sulla città di Napoli. Perché è una situazione che ricadrebbe sui cittadini, perché dichiarare il dissesso non è una cosa così semplice da fare, così come io ho sentito stamattina da diverse parti, da diversi colleghi, come se dichiarare il dissesso fosse la soluzione liberatoria. Dichiarare un dissesso significa aggravare i cittadini, aggravare i dipendenti, aggravare i creditori del Comune di Napoli che si troverebbero investiti di tutta una serie di problematiche. I creditori certo non verrebbero pagati se non in parte residuale rispetto al credito che vantano, i dipendenti verrebbero licenziati, i cittadini si troverebbero a pagare una situazione anche a livello impositivo che non è giusta. Allora un Comune, un'amministrazione che deve essere penalizzata perché vuole portare avanti una battaglia è perché sta cercando con tutte le sue forze di portare avanti un discorso di giustizia sociale. Perché una città come Napoli, la terza città d'Italia che da cinque anni, da sei anni a questa parte sta vivendo una rinascita economica, una rinascita turistica, sta cercando di rialzarsi e di camminare sulle proprie gambe, non è giusto che debba essere costretta ad inchinarsi per colpe che non sono le sue. Grazie a tutti.